Allora, intanto scusate per la voce che sarà un pochettino così altalenante, ragazzi, mi ho avuto un brutto raffreddore che adesso si è spostato in gola e quindi mi ha abbassato il tono di voce. E prima di salutarvi anche, prima di incominciare questa recensione, mettiamo le mani avanti, accidenti, e teniamo a sottolineare il fatto che quelli che esprimerò in questo video saranno pareri puramente personali per cui non dico che quello che dirò, ragazzi, è un parere oggettivo sul film, è un parere, sono pareri soggettivi sul film. Quindi significa che quelle che esprimerò saranno impressioni che la sottoscritta ha avuto guardando il film. Questo quindi non significa che il film è così come l'ho percepito io, ragazzi. Ognuno ovviamente percepisce il film in questione, percepisce qualsiasi cosa del mondo esistente a proprio modo, soggettivamente parlando. Per cui, perché, cioè, lo devo sottolineare, ragazzi, perché pare, dopo che ho fatto la recensione sul Re Leone, ragazzi, che la gente, certa gente, si offende personalmente quando ascolta pareri discordanti dal proprio. Cazzaro la miseria, ficchiamoci in testa che il mondo è vario, che esistono sei miliardi di persone nel mondo e che quindi esistono sei miliardi di pareri differenti, ragazzi. Quindi stiamo sempre nel rispetto del parere altrui, sempre che ci sia ancora la possibilità di esprimere il proprio parere, perché a quanto pare sembrerebbe essere quasi un reato ciò, però poco importa. Risottolineo, ragazzi, sono pareri puramente personali. Quindi il fatto, ve lo dico, che il film non mi sia granché piaciuto, non significa che a voi non debba piacere. Probabilmente lo troverete il film più bello del mondo. Buon per voi, ragazzi, ma tanto ti ho guadagnato. Quello che dico non significa che il film oggettivamente non piace o può non piacere a nessuno. Punto. Cioè, guardate voi se devo stare a perdere tempo a dire queste cacate. Ok, entriamo nel vivo di questo video. Ebbene sì, ieri sera sono andata a guardare finalmente It, capitolo 2, ragazzi. Questo secondo ed ultimo capitolo che attendevo con estrema trepidazione. Infatti non vedevo proprio l'ora, ragazzi, di andarlo a guardare, perché effettivamente il primo capitolo mi era piaciuto da impazzire. Quindi, ovviamente, il mio hype era alle stelle. Anche perché sapete benissimo che il personaggio interpretato da Bill Skarsgård, sarebbe a dire Pennywise, mi era piaciuto tantissimo. Mi aveva emozionato tantissimo. Mi aveva intrigato tantissimo. Quindi, ovviamente, le mie aspettative, ragazzi, erano molto alte. Anche perché, ovviamente, dopo aver fatto, ragazzi, un primo film di un certo livello, di un certo spessore, che è piaciuto effettivamente tanto al pubblico, bisogna essere poi capaci comunque di stare sulla stessa linea e di offrire un prodotto altrettanto valido. Ora, ripeto, rimettiamo le mani avanti. Questo non significa che il prodotto in sé non sia valido. Anzi, la prima cosa che vi dico, prima di esprimere i motivi per cui il film non mi ha entusiasmato più di tanto, non è che non mi è piaciuto, ma non mi ha entusiasmato più di tanto, non mi ha entusiasmato come mi aveva entusiasmato la prima parte, ci tengo a dire che, invece, comunque il film è un bel film, ragazzi. Da tanti punti di vista è un prodotto effettivamente valido, è un film godibile, è un film lungo. Questo non significa, per forza, che un film sia bello, ragazzi, perché magari un film può durare quattro ore, ma far cagare. Perché, non so, si ha sempre questo vizio, diciamo, di associare la lunga durata di un film alla bellezza del film stesso. Purtroppo non è per forza così. In questo caso, ragazzi, il film dura abbastanza, dura la bellezza tipo di 2 ore e 45 minuti, è una roba del genere. Quindi ci rendiamo conto che è una durata considerevole e probabilmente, magari, hanno puntato anche su questo. Nel senso che, essendo un prodotto così tanto aspettato, ragazzi, dal pubblico, probabilmente hanno pensato che farlo durare tanto avrebbe, non so, soddisfatto ancora di più le aspettative del pubblico. Probabilmente non so a cosa hanno pensato riguardo questa cosa. Però, fatto sta che il film dura tanto. Allora, ricapitoliamo un attimo, facciamo un attimo di chiarezza nelle idee, perché, sennò, vado sparlando come faccio di solito. Ritornando all'inizio, quindi, il film è un buon prodotto, è un prodotto valido. Non sto di certo dicendo che il film fa cagare, fa schifo, è stata una delusione totale. Assolutamente no. Rimettiamo le mani avanti. Il film è un buon prodotto, è un bel film, però, da certi punti di vista, personalmente parlando, lo trovo sicuramente un buon film. Però c'è stato qualche aspetto che, appunto, ha fatto sì che questo prodotto non mi convincesse fino in fondo. Non dico che l'ho trovato deludente, però c'è stato qualcosa, ragazzi, che mi ha fatto uscire dalla sala, facendo Capite quel Non so se quel racchiude un po' il mio disappunto, però probabilmente già da questo volete capire che cosa intendo, nel senso che c'è qualcosa che secondo me non ha funzionato benissimo. Allora, parliamo un attimino di quelli che sono gli aspetti sicuramente positivi del film. Dal punto di vista della regia, ragazzi, il film mi è piaciuto un casino. La regia funziona davvero bene come funzionava davvero bene nel primo film, insomma, nel primo capitolo. E mi è piaciuta tantissimo. È accurata, è figa, ragazzi. La regia, effettivamente, è figa, ecco. Diciamo così, racchiudiamo in questo termine il parere sulla regia perché è veramente figa. Personalmente parlando, mi è piaciuta molto. Anche dal punto di vista della fotografia, ragazzi, c'è stato un bel lavoro dietro. È stato un lavoro ben accurato. Molto figa anche la fotografia. E anche la colonna sonora, insomma, penso che il compositore fosse lo stesso. Adesso non vorrei dire una cagata, correggetemi, se ho detto una stupidaggia. Il compositore, penso, fosse lo stesso. Quindi le musiche anche davvero molto convincenti, molto emozionanti, molto coinvolgenti. Quindi, questo film ha tanti aspetti che funzionano e generalmente, ripeto ragazzi, il film è un buon prodotto. La scelta degli attori, tra l'altro, ho trovato abbastanza azzeccata, nel senso, dal punto di vista delle somiglianze fisiche, c'eravamo abbastanza, ragazzi. Per esempio, l'attore che ha fatto Eddie da adulto, io l'ho trovato estremamente abbastanza, dai, somigliante all'attore che invece ha interpretato Eddie da bambino. Anche Ben, dal punto di vista della fisionomia, per quanto comunque da bambino, insomma, il personaggio fosse in carne, da adulto no, la fisionomia effettivamente del viso, ragazzi, era anche abbastanza somigliante. E direi comunque anche gli altri attori li ho trovati abbastanza azzeccati dal punto di vista, ovviamente, del, insomma, della fisionomia, dal punto di vista della somiglianza. E devo dire che anche recitativamente parlando, gli attori mi hanno convinto abbastanza. Ho visto l'attrice che ha interpretato Beverly un pochettino anonima. Cioè, non vorrei dire, ragazzi, che non è stata brava nel suo ruolo, però, secondo me, il personaggio di Beverly da piccola era un pochettino più convincente, magari. Cioè, l'ho vista un pochettino spenta, ecco, un pochettino anonima questa Beverly adulta. Per quanto riguarda gli altri attori, io ripeto, ragazzi, recitativamente parlando, sono stati tutti abbastanza bravi, però, per esempio, appunto, l'attrice che ha interpretato Beverly, l'attore che, per esempio, ha interpretato Ben, gli ho visti un pochettino anonimi, un pochettino spenti. Ecco, questo è quanto, queste sono le impressioni che ho avuto per quanto riguarda le interpretazioni, però, fondamentalmente, tutti abbastanza bravi e, vabbè, perché, insomma, non parlare di Bill Skarsgård che, ovviamente, ha interpretato Pennywise e che, sicuramente, è stato bravo, è stato bravo come è stato bravo nel capitolo 1, però, ragazzi, c'è stato qualche aspetto di questo Pennywise in questo secondo capitolo che non mi ha convinto del tutto, ma non perché l'attore non sia stato bravo nella sua interpretazione, ma per appunto certi contesti, ragazzi, di questo Pennywise, di questo clown in questo secondo capitolo, poi, comunque, ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda, appunto, ragazzi, ritorniamo all'argomento della durata, penso che, probabilmente, il film lo abbiano fatto durare un po' troppo, probabilmente, per quello che invece avrebbe potuto essere, perché penso che, sicuramente, magari, in un'oretta e mezza, in due ore, le vicende che avrebbero dovuto svilupparsi, avrebbero potuto tranquillamente svilupparsi e finire, penso che avrebbero potuto farlo durare anche un po' di meno, il film. Questo non significa che il film sia noioso, perché, effettivamente, nonostante la lunga durata, ragazzi, devo essere sincera, comunque, il tempo è passato velocemente, nel senso che, effettivamente, il film non arriva in certi momenti, sapete che ci sono certi momenti, in certi film, che non ce la fai più, nel senso che dici, oh, ma quando finisce? Questo, effettivamente, non mi è successo, nonostante la lunga durata del film, nonostante il fatto che avrebbero potuto, effettivamente, farlo durare meno, perché, ragazzi, si sono, secondo me, dilungati un po' troppo, per esempio, nella parte centrale del film, su alcune questioni, su alcuni sviluppi di trama, hanno diluito un po' troppo la cosa, secondo me, cosa che avrebbero potuto evitare, però, nonostante questo, appunto, la visione del film è godibile, non ha noia, anche se, appunto, sembra che in certi momenti la cosa si allunghi più del previsto, insomma, più del necessario, anzi, e quindi, comunque, il film è godibile, ripeto, nonostante la sua lunga durata. Per quanto riguarda la trama, ragazzi, allora, mettiamo le mani avanti pure qua, perché, ovviamente, ragazzi, allora, It è preso dal romanzo Ristifan King, quindi, è un riadattamento del libro, per cui, ovviamente, chi ha letto il libro, io, personalmente, ho letto il libro, ho finito di leggerlo, però, ragazzi, più di un anno fa, e quindi, molti aspetti della trama sono sfumati, e non ce li ho chiarissimi, per cui, mettiamo le mani avanti per i puristi del libro, perché, sapete benissimo, ragazzi, che ci sono sempre persone che tengono tantissimo a certe cose, e che quindi, vederle magari, snaturate, può dare loro fastidio, per cui, io metto le mani avanti, è vero, ho letto il libro, però, l'ho letto diverso tempo fa, e molti aspetti, purtroppo, dovrò rileggerlo, perché lo vorrò rileggere, molti aspetti della trama, non ce li ho chiari, hanno ovviamente dovuto omettere tantissime cose, ragazzi, perché il libro è lungo la bellezza tipo di 1200 pagine, quindi capiamoci, 1200 pagine, quindi sono tante, Stephen King nel libro si è sbizzarrito, è stato incredibile, perché il libro è bellissimo, ragazzi, anche se può risultare molto descrittivo, quindi la lettura può essere un po', diciamo pesante, tra virgolette, in certi momenti, ma Stephen King è stato un mostro, diciamo, tra virgolette, facendo quel libro, è incredibile, quindi hanno dovuto omettere tantissime cose del libro, e vorrei pure vedere, ragazzi, perché se no, per fare il film di un libro lungo mille pagine, dovrebbero fare un film che dura dieci ore, quindi questo era ovvio, insomma, come si è visto nel capitolo 1, e come appunto si è visto in questo capitolo 2, hanno omesso tante cose del libro, e ci sta, hanno omesso diversi aspetti del libro, e della storia del libro, ragazzi, che erano importanti, probabilmente, perché King, ragazzi, si è inventato, è difficile pure da spiegare, ragazzi, allora, per quanto riguarda la natura, appunto, di It, di questo essere, King si è inventato tutta, tutto un mondo suo, tra virgolette, tutto un mondo del libro, incredibile, anche a volte difficile, da capire, difficile da stargli dietro, che era praticamente impossibile fare nel film, ricreare nel film, era praticamente difficilissimo, se non impossibile, ricreare certi concetti, ragazzi, quindi, ci poteva stare, che ovviamente, non avrebbero riprodotto fedelmente, alcuni aspetti importanti della trama, perché era praticamente impossibile, farli nel film, diciamo che, da diversi punti di vista, comunque, è anche abbastanza fedele, è fedele per quanto riguarda il rituale, che devono fare, anche se l'hanno un po' riadattato, ovviamente, è stato fedele, per alcuni eventi che si vedono, che succedono, quando appunto i perdenti da adulti, vanno in giro nella città, ragazzi, non farò spoiler, poi non so se farò spoiler più avanti, quindi state tranquilli, vi avviserò, quando entrerò nella sezione spoiler, quindi, in diverse situazioni, è stato anche fedele, però, ovviamente, ragazzi, il riadattamento si sente, e ripeto, ci poteva stare, ci poteva stare, perché fare un libro a film, è comunque ai suoi aspetti difficili, quindi, penso che, principalmente, tutti questi aspetti positivi, ragazzi, vanno a favore del film, ovviamente, che ripeto, è un film godibilissimo, è un film che a me personalmente è piaciuto, ma che mi ha fatto storcere un po' il naso, per certi aspetti, secondo me, per quanto riguarda appunto, le cose che mi hanno lasciato un po' da pensare, per quanto riguarda i personaggi, quindi sarebbe dire i nostri protagonisti perdenti, da adulti, nel libro, ragazzi, King, ovviamente, entra molto nei dettagli, spiegando, quindi, facendo vedere, effettivamente, chi e cosa sono diventati da adulti perdenti, quindi ci sono tanti aspetti della vita dei personaggi, che penso comunque sicuramente fossero importanti nel libro, che nel film non hanno messo, infatti, ci presentano i personaggi da adulti, a inizio film, direi in maniera, forse, un po' troppo sbrigativa, cosa che avrebbero potuto evitare, perché probabilmente hanno preferito fare in maniera sbrigativa questo, quindi ci hanno preferito passare un po' più velocemente sulla presentazione della vita dei personaggi all'inizio, per poi dilungarsi, ecco, forse, un po' troppo, nella parte centrale del film, dove, ovviamente, ci sono le comparsate, ragazzi, in momenti dedicati al clown, dedicati alla paura, che, secondo me, hanno dilungato troppo, cioè, il brodo, ragazzi, in fin dei conti, è quello, quindi è vero che con quel film è un film horror, perché è un film tratto da un libro horror, che poi, c'è horror, ragazzi, fino a un certo punto, perché penso che It sia più che altro, un qualcosa di, che ti prende a livello psicologico, quindi è una paura più mentale, capite, che non riesco a spiegarmi tanto bene, per questo vi chiedo scusa, però nel film hanno voluto allungare, allungare tantissimo questo brodo, ragazzi, di questi momenti che dovevano spaventare, secondo me in maniera esagerata, in maniera non necessaria, perché? Perché effettivamente, ragazzi, il capitolo 1, perché mi è piaciuto così tanto, perché è piaciuto così tanto, perché è vero che voleva essere appunto, un film spaventoso, però sono stati bravissimi, nell'alternare i momenti spaventosi, a momenti, insomma, di storia, di trama, dei personaggi, e quindi di non renderli, troppo ripetitivi, di non allungare troppo, questa minestra, cosa che invece purtroppo, in questa seconda parte, hanno voluto fare, non ho capito sinceramente tanto perché, probabilmente perché ragazzi, hanno visto che, appunto, il capitolo 1, era piaciuto così tanto, proprio per questi magari, momenti di angoscia, l'inquietudine che erano stati bravissimi a fare, e quindi hanno detto, e visto anche che, appunto, il personaggio stesso di Pennywise, era piaciuto così tanto, perché se ci riflettete ragazzi, nel capitolo 1, Pennywise, non si vede spessissimo, se ci riflettiamo, non ci sono effettivamente, così tanti momenti, in cui questa figura, si vede, e questo secondo me, gioca a favore, della pressione psicologica, perché, non potrai effettivamente, mai, totalmente sapere, quando poi questa figura, sbuca fuori, e ti farà paura, e quindi nel primo, erano stati bravissimi a giocare, su questo, e, a rendere così tanto inquietante, angosciante, anche questa figura di Pennywise, e quindi, in questo secondo, probabilmente, capitolo, hanno preso questi aspetti, che erano piaciuti tantissimo, al pubblico, proprio per questi motivi, che vi stavo elencando, e li hanno, cioè, moltiplicati per cento, ragazzi, cioè, la parte centrale del film, è tutto, un susseguirsi, ininterrotto, a volte, effettivamente, se ci riflettiamo, se ci rifletto bene, di questi momenti, che appunto, volevano essere angoscianti, ed inquietanti, ma, si è perso allora, quello che erano riusciti a fare, nel primo capitolo, cosa che vi dicevo, un attimo fa, si è perso, quello spirito di inquietudine, di angoscia, di, oddio, quando succederà qualcosa, perché, se me lo fai succedere continuamente, e poi, tra l'altro, diciamoci la sincera verità, ragazzi, alcuni di questi momenti, li ho trovati un pochettino, perché, cioè, cose, magari, che appunto, si sono inventati, tra virgolette, di sana pianta, per metterli nel film, che non c'erano, quindi, nel libro, quindi, capite, non è che, tutti, 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 questi momenti spaventosi, c'erano nel libro, li hanno voluti mettere nel film, probabilmente, magari, alcuni, non me li ricordo, non lo so, se ho detto una cagata, ma mi sembra, che ovviamente, non tutti questi momenti spaventosi, fossero nel libro, e quindi, li hanno messi, in maniera esponenziale, ragazzi, nella parte centrale, di questo film, allungandolo, tantissimo, e, quindi, facendo sì, che alla fin fine, ragazzi, rendendo alcuni momenti, anche quasi ridicoli, perché io li ho trovati, ridicolo, ragazzi, non è per forza un'offesa, ma, cioè, l'impressione, ma fatto, ci tengo sempre a sottolineare, perché non si sa mai, quindi, certi di questi momenti, li ho trovati, purtroppo, anche quasi ridicoli, e quindi, tutta questa suspense, insomma, questa, questa angoscia del, oddio, che cosa succederà, quando succederà, si perde, si perde totalmente, e quindi, inoltre, assistendo a cose, che, effettivamente, possono quasi provocare, ilarità, perché vi dirò la sincera verità, ragazzi, altre persone in sale, in certi momenti, si sono messe a ridere, di fronte ad alcuni di questi momenti, cioè, si perde tutto, capite, si perde il pato, si perde la suspense, si perde l'angoscia, si perde qualsiasi cosa, e quindi, arrivi a stare così, a guardare queste cose che succedono, senza che ti provo, chi no, inquietudine, alcuna, e questo, non va bene, è che succeda, ovviamente, in un film horror, il cui intento, ovviamente, è quello di far paura, di mettere angoscia, perlomeno inquietudine, non dovrebbe esserci, non dovrebbe, assolutamente, succedere, cosa che, purtroppo, hanno fatto succedere, questo secondo capitolo, quindi, tutti questi ragazzi, momenti, di raccapriccio, perché, vi dirò anche questo ragazzi, che, nel primo capitolo, erano stati bravi, a creare, momenti che, facevano provare, vera angoscia, vera inquietudine, non dico, che non ci siano, anche in questo secondo capitolo, perché, sicuramente, alcuni di questi momenti, funzionano ragazzi, ok, però, nel primo, ci erano riusciti, davvero bene, a far sì, che ognuno, di quei momenti, che non erano così tanti, ti creasse, inquietudine e angoscia, qui ragazzi, no, qui no, ci sono stati alcuni momenti, che ripeto, mi sono sembrati addirittura ridicoli, momenti in cui, hanno utilizzato, poi ragazzi, adesso, parlando appunto di Pennywise, e dell'uso che ne hanno fatto, in questo film, come vi dicevo poco fa, perché hanno preso, questi due aspetti, che hanno funzionato tantissimo, nel primo capitolo, e li hanno portati all'estremo, in questo secondo capitolo, ragazzi, Pennywise, vi dirò, è stato bravissimo, Skarsgård, ci stavano certi momenti, c'è stato tutto, però questo Pennywise, di questo secondo capitolo, ragazzi, non mi ha fatto battere il cuore, purtroppo, non dico che, proprio ho provato niente, tutto il film, però, non mi ha entusiasmata, come nel primo capitolo, perché? Perché hanno portato all'estremo, anche questo, questa figura, ragazzi, questo personaggio, a parte che, in questo secondo capitolo, parla tantissimo, ragazzi, gli hanno fatto dire, tante, e diverse battute, che, funzionavano anche, in certi momenti, ma secondo me, farlo parlare troppo, ragazzi, gli ha fatto perdere, un pochettino, sapete, di quell'aura, di mistero, di inquietudine, che già solo la figura, trasmetteva, nel primo capitolo, nel primo capitolo, pure, ragazzi, dice poche battute, se ci facciamo caso, in questo secondo capitolo, invece, l'hanno fatto parlare, tantissimo, e, secondo me, non c'era bisogno, hanno voluto, estremizzare anche, questo personaggio, e, purtroppo, ragazzi, sapete che gli estremi, non sono mai, un bene, perché, l'hanno sminuito, secondo me, così, l'hanno un pochettino, annacquato, non so come dirvelo, gli hanno fatto perdere, quel carisma, incredibile, che aveva acquistato, nel primo capitolo, cosa triste, ragazzi, triste, perché, sapete benissimo, che a me, queste figure, affascinano tantissimo, e, sentirgli dire, alcune cose, magari, ma no, neanche tutte le battute, ripeto, perché, non è che voglio fare, tutta l'arbonfascio, però, magari, ci sono state, un paio di battute, che avrebbero potuto, risparmiarsene, probabilmente, io ripeto, hanno fatto parlare, troppo, ragazzi, perché, l'obiettivo, di queste figure, è che ti facciano paura, che ti facciano inquietudine, angoscia, anche solo guardandole, nel primo, c'erano riusciti, alla grandissima, qua, ha perso, ragazzi, ha perso, il suo carisma, parte del suo carisma, perché, comunque, il suo carisma, sempre ce l'ha, è una figura, fighissima, però, secondo me, parte del suo carisma, l'ha perso, per quanto riguarda, poi, altri aspetti del film, che non mi hanno convinto, tanto, hanno inserito, appunto, come vi dicevo, un attimo fa, tanti aspetti, momenti, ecco, raccapriccianti, alcuni dei quali, secondo me, ragazzi, non avevano motivo, di esserci, cioè, l'hanno portato all'estremo, anche questo, come vi dicevo, e quindi, alcuni momenti, ragazzi, li ho trovati inutili, cioè, hanno voluto, puntare, anche un pochettino di più, per carità, anche nel primo, c'erano aspetti, raccapriccianti, schifosi, capite, voglio dire che, colpiscono dal punto di vista, del disgusto, ecco, e, qui, hanno voluto, puntare, ancora di più, su questo, sul raccapriccio, del disgusto, cosa che, secondo me, in un film horror, ci sta, ci può stare, perché, ovviamente, anche quello, comunque, sapete, te fa provare un pochettino di, eh, però, esagerare, così tanto, su certe cose, secondo me, non ce n'era, assoluto bisogno, perché, personalmente parlando, penso che, un film horror, ragazzi, non ti debba, fare schifo, che, quindi, l'obiettivo principale, di un film horror, non debba essere, quello di fare schifo, a meno che non sia, genere splatter, per l'amore di Dio, ma quello, comunque, di, angosciarti, dal punto di vista, mentale, certo, momenti del genere, ci possono stare, perché, ogni tanto, sapete, magari, ti possono scuotere, un pochettino, dal punto di vista, psicologico, però, puoi stare lì, sempre a rimarcare, sullo schifo, sul disgusto, secondo me, si poteva evitare, per quanto riguarda, ragazzi, poi, appunto, il resto, della storia, hanno allungato, appunto, secondo me, troppo, questo brodo, in questa parte centrale, cosa che secondo me è stata favorita, era il fatto, ragazzi, che hanno voluto, appunto, suddividere, i due capitoli, in parte da ragazzini, e parte da adulti, perché, il libro non è così, non è suddiviso così, si alternano, insomma, le situazioni, di loro da ragazzini, e in situazioni di loro da grandi, quindi, diciamo che c'è un miscuglio, che rende il tutto, armonioso, qua, si è allungato, ancora di più, il brodo, perché, hanno dovuto, anche se comunque, secondo me, forse dei flashback, no, ce n'era bisogno, vabbè, ce n'era bisogno, anche se, appunto, comunque, la parte di loro da ragazzini, i ragazzi, già l'avevano fatta vedere, però, secondo me, hanno allungato, ancora di più, questo brodo, perché hanno dovuto far vedere, situazioni di spavento, diciamo così, vissute, sia da adulti, che da ragazzini, quindi, sì, sono andati, alternando situazioni in loro da ragazzini, a situazioni in loro da adulti, e questo, secondo me, ha fatto sì che la cosa durasse, secondo me, più del necessario, dopodiché, quindi, per quanto riguarda il finale, ragazzi, secondo me, avrebbero potuto fare diversamente, nel senso che, appunto, evitare di allungare troppo questa parte centrale, e di concentrarsi un pochettino di più, sulla parte finale, appunto, dello scontro finale, fra i perdenti, e Pennywise, magari elaborando, qualcosa di un po' più elaborato, scusate il gioco di parole, anche se effettivamente, come vanno le cose, alla fine, ci poteva stare, ci stava, perché, più o meno, diciamo che, hanno cercato di riacchiappare, quello che era il concetto, dello scontro finale, nel libro, quindi, diciamo che più o meno, ci stiamo ragazzi, però, però, sembra una cosa fatta, in maniera, frettolosa, nel senso che, appunto, arrivati ad un certo momento, se si sono detti, oh, guardate che, fino a questo momento, il film dura tanto, dobbiamo farlo finì, insomma, dobbiamo far finì sta storia, e quindi, in 4 e 4, 8, effettivamente, poi, in questa situazione, trova la sua fine, mi ha dato l'impressione, di essere un finale, effettivamente, un pochino, raffazzonato, un pochettino, troppo frettoloso, ecco, un altro aspetto, che, mi ha fatto storcere, un po' il naso, è stata, la comicità, diciamo, l'umorismo, che ci hanno voluto, ficcare dentro, che, anche questo, ci poteva, assolutamente, stare, perché, effettivamente, riprendevo, un pochettino, l'aspetto, dell'umorismo, pungente, che, avevano i perdenti, quando erano ragazzini, umorismo stesso, che, è anche nel libro, però, mi è sembrato, un pochettino, esagerato, ragazzi, portato all'estremo, anche questo, effettivamente, perché, l'hanno voluto, ficcare un pochettino, dappertutto, che, ripeto, ci può stare, in certi momenti, per smorzare, un pochettino, la tensione, ma, magari, non in certi momenti, capite che vi voglio dire, quindi, cioè, anche in, è stato inserito, anche in certi momenti, in cui, probabilmente, smorzare la tensione, era sbagliato, secondo me, quindi, anche questo, humorismo esagerato, anche quando, non ce n'era effettivamente, bisogno, costantemente presente, quasi, mi è sembrato, un pochettino, fuori luogo, sinceramente, ci stava, perché, comunque, il personaggio di Ricci, che, tra l'altro, è stato davvero, ben interpretato, è così, nel senso, è così, anche nel libro, è così, dice sempre, cose, magari, un pochettino, fuori luogo, gli altri, sempre, un po' lo zittiscono, eccetera, però, non mi ha convinto, più di tanto, nel senso che, ripeto, momenti comici, ci potevano stare, ci possono stare, ci stanno, assolutamente, però, secondo me, hanno portato, un po' troppo all'estremo, anche, questo, dopodiché, prima di passare, definitivamente, alla sezione spoiler, parliamo un attimino, anche, ragazzi, del personaggio di Henry Bowers, che, secondo me, se lo sono giocati, un po' male, nel senso che, nel libro, anche da adulto, è un personaggio, che ha una certa importanza, effettivamente, che ha un certo spessore, qua, invece, ragazzi, sembra che, ce lo hanno messo, giusto per mettercelo, gli hanno lasciato, quel piccolo spazietto, giusto per far vedere, che c'era, che effettivamente, era ancora vivo, per farci sapere, effettivamente, che fine avesse fatto, ma, nel libro King, comunque, gli aveva dato, un altro spessore, vi ripeto, qua no, cioè, qua, sembra un personaggio, che l'hanno preso, ce l'hanno messo, giusto perché, nel primo c'era, e quindi, gli hanno fatto fare, la sua comparsata, rapida, in dolore, e poi, l'hanno fatto, insomma, così, sparire, senza troppo pensarci, ecco, secondo me, potevano giocarsela, in maniera diversa, e qua, lo hanno totalmente, reso assente, in pratica, quindi, boh, non lo so, avrebbero potuto, giocarsela, diversamente, ok ragazzi, penso di aver parlato, fin troppo, fino ad adesso, in avanti, farò spoiler, per cui, se non avete intenzione, ovviamente, di spoilerarvi nulla, ragazzi, potete interrompere, quel video, vi ringrazio, vi mando un saluto, un bacione, e ciao a tutti ragazzi, entriamo, nella sezione spoiler, allora ragazzi, nella sezione spoiler, non credo che starò, tantissimo, perché, non voglio, stare ad entrare, proprio, nei minimi dettagli, infinitesimali, volevo, più che altro, condividere con voi, ragazzi, le impressioni, che mi ha trasmesso, la fase finale del film, più che altro, la parte finale, dello scontro, fra i perdenti, e Pennywise, quel momento in cui, c'è appunto, Pennywise, che comunque ha assunto, una forma più gigantesca di sé, tra l'altro, con tipo, queste simil zampe, da ragno gigante, e quindi ci sono i perdenti, che non sanno, dopo aver provato, ad effettivamente, attuare, il rituale, per sconfiggerlo, o non esserci riusciti, non sanno, come appunto, affrontare ulteriormente, e sconfiggere, Pennywise, e quindi arriva un momento, in cui, non mi ricordo, chi di loro, dice, no, lo dobbiamo rendere piccolo, perché c'è Pennywise, appunto, che è gigantesco, così per poterlo affrontare, e all'inizio, provano, ad attirarlo, all'interno, dei vari cunicoli, cosa che poi, non riesce loro, quindi si ritrovano, di fronte, di nuovo, a Pennywise, gigantesco, che praticamente, sta, per ammazzarli, tutti quanti, e uno di loro dice, però, ci sono altri modi, per renderlo piccolo, e un altro risponde, è, facendogli credere, di essere piccolo, allora, questo ragazzi, quello che succede, appunto, in questa fase qua, sicuramente, in qualche modo, è simbolo, del fatto, che hanno, un minimo, preso spunto, da quello che succede, nel libro, appunto, nella fase, di scontro finale, con Pennywise, perché, mo, non entrando nei dettagli, ragazzi, cioè, alla fine, si vede, che, non deve essere, uno scontro, fisico, ma, uno scontro, di volontà, ecco, quindi, di volontà, cioè, uno scontro, diciamo, mentale, fra la persona, interessata, chi di turno, e, appunto, la volontà, di Pennywise, principalmente, diciamo, che, proprio a grandissime linee, scusate, se l'ho spiegato di merda, è questo, che c'è nel libro, quindi, forse, questo concetto, può anche avere, qualche collegamento, a quell'altro concetto, del libro, però, ragazzi, il modo, in cui, attuano, questa cosa, io l'ho trovato abbastanza, non so se definirlo, ridicolo, però, sì, cioè, principalmente, l'ho trovato così, ragazzi, mi dispiace, dirlo, ma l'ho trovato, principalmente, ridicolo, perché, quando giungono a questa conclusione, dicono, eh, facendogli credere, di essere piccolo, caspiterina, praticamente, sapete che cosa fanno, ragazzi, tutti loro, si mettono, tipo, a dirgli frasi, a gridargli frasi, ad insultarlo, diciamo così, dicendogli frasi, del tipo, sei, come dicevano, sei un pagliaccio, sei un ciarlatano, sei un clown, sei una stupida mummia, cioè, gli gridano frasi del genere, c'è una frase che dicono, che non ho capito, effettivamente, cosa diavolo c'entrasse, perché, gli ripetono pure, più di una volta, ragazzi, sei un bullo, che affermazione è? Quella, proprio, ragazzi, veramente, posso assicurare, che non l'ho capita, non l'ho capita, proprio, ma che affermazione è? Cioè, che tu stai affrontando, un'entità malefica, alta, dieci metri, che ne so, quanti metri sono, e gli gridi, sei un bullo, cioè, già il fatto, che questi si mettono a gridare, solamente, contro di lui, e lui, ragazzi, non fa niente, principalmente, perché, cioè, alla fine, si riduce, a farsi davvero condizionare, dalle frasi che gli dicono, quindi, mi sembra una fine un po' misera, effettivamente, per un personaggio del genere, però, ragazzi, che non ho capito, non ho capito, che cavolo mi ha rappresentato, che ha voluto dire, che questi si mettono a gridargli, così, queste frasi, e quest'entità malefica, che è il male in terra, è lì, che ascolta le frasi, all'inizio, cioè, i primi secondi, tipo, sembra non dargli peso, non fare niente, e poi, invece, inizia a farsi condizionare, da queste affermazioni, da queste frasi, e alla fine, si riduce, ragazzi, ad un essere, effettivamente, piccolissimo, cioè, alla fine, si fa condizionare, cioè, l'entità che è il male in terra, si fa condizionare, da un gruppo, di cinque persone, quanti erano, cinque persone, che gli gridano, sei un bullo, io, questo, l'ho trovato, altamente, imbarazzante, ragazzi, imbarazzante, ridicolo, e, ho trovato, estremamente misera, alla fine, che hanno fatto fare, a questa entità malefica, che è il male in terra, mi ripeto, che si fa condizionare, nella sua forma gigante, mostruosa, da questi cinque tipi, che stanno lì, a gridargli frasi, e lui si fa condizionare, si vede, che si confonde, che cambia un po' forma, alla faccia, si riduce, ad un essere, piccolissimo, ad un essere piccolo, tra l'altro, quindi, non l'hanno manco fatto, ridurre alla sua forma, da clown, sapete comunque, che era la sua forma, per eccellenza, diciamo così, l'ho fatto ridurre, a quest'essere, essere piccolissimo, ragazzi, che, una cosa, rinsecchita, una prugna secca, sembrava, praticamente, quindi, inerme, sì, era un simbolo, comunque, voleva essere un simbolo, che, si era ridotto, ad un essere, totalmente inerme, di fronte al fatto, che loro, finalmente, riuscivano ad affrontare, le proprie paure, cosa, che comunque, già si era vista, anche nel primo capitolo, alla fine, ragazzi, solo che, nel primo capitolo, lo legnavano, qua, affrontano le proprie paure, gridando, queste frasi, dette così, e, e quest'entità, il male per eccellenza, che si riduce, ad una prugna, secca, piccola così, e che, ripeto, era un simbolo, voleva essere tutto quello, che vi pare, ragazzi, e quindi, alla fine, loro, Mike, se non sbaglio, che tra l'altro, non ci doveva, nemmeno essere, perché comunque, nel libro, Henry Bowers, feriva Mike, che finiva, anche in ospedale, come si vedeva, effettivamente, nella mini serie, degli anni 90, però vabbè, piccola parentesi, doveva essere un simbolo, che ci devono essere tutti, questo sicuramente, Mike, gli strappa il cuore, praticamente, e il cuore, poi tutti insieme, ragazzi, mettono le mani, sotto a sto cuore, e lo sprisciano, in pratica, lo spremono, lo, insomma, lo spremono, sì, praticamente, e lo ammassano così, il finale, questa cosa, ragazzi, principalmente, questo, questo fatto, questo evento, del film, è lasciato abbastanza interdetta, e confusa, perché, secondo me, per quanto fosse difficile, impossibile, ovviamente, rendere, nel film, quello che era, nel libro, cioè, secondo me, lo hanno fatto, in maniera ridicola, potevano farlo, secondo me, in qualche altro modo, che adesso, non vi so dire, quale avrebbe potuto essere, perché io non sono, una sceneggiatrice, non sono, una regista, non sono, il cavolo che ve pare, quindi, dico che, personalmente, parlando, ho trovato, ridicola, questa fase finale, ragazzi, e, misera, assolutamente, misera, la fine, di Pennywise, che, secondo me, avrebbe potuto essere, diversa, questa frase, questa fase finale, avrebbero potuto farla, in maniera, diversa, per cui, che dire, ragazzi, principalmente, questo, mi, ha lasciato interdetta, nella fase finale, più, altri momenti, che avrebbero dovuto essere, spaventosi, del film, che ce li hanno ficcati dentro, per forza, giusto per, pensando, insomma, di far piacere, al pubblico, cosa che, personalmente, non è successa, perché, ho trovato certi momenti, ragazzi, che ne so, tipo il momento in cui, Eddie, deve andare a trovare, il proprio oggetto, diciamo, va nel seminterrato della farmacia, c'è quel momento, in cui, vedeva la madre, legata, gli allettino, e c'era sto, lebroso, sto morto, che cavolo era, che va lì, le ficca la lingua in bocca, ragazzi, sta lingua, c'è un po' di serpente, che poi, Eddie da grande, rivede questa figura, mostruosa, che alla fine, sta per ucciderlo, e questo, gli vomita in bocca, cioè cose, che secondo me, avrebbero potuto evitare, capite, momenti, che hanno allungato, solo di più, tutta sta fase centrale, e che hanno, secondo me, non dico no, non rovinato, ragazzi, però, reso troppo prolisso, tutto questo, ecco, non sto ad entrare, ragazzi, in altri dettagli, perché se no, qua mi sa che mi, sparato un colpo in testa, perché probabilmente, questo video durerà, tantissimo, di questo, vi chiedo scusa, in ogni caso, penso di aver detto, tutto quello che pensavo, riguardo questo capitolo 2, che ripeto, non è stata una delusione, il film, il film mi è piaciuto, è un bel film, ma, ci sono stati alcuni aspetti, che purtroppo, mi hanno lasciata, interdetta, per cui, questa recensione, termina qui, fatemi sapere, ovviamente ragazzi, se voi avete visto il film, se avete intenzione, di andarlo a vedere, cosa verrà sembrato del primo, quindi grazie a tutti, un bacione, e un brocio a tutti ragazzi, da giocherina, ciao!